Il contratto di lavoro ha un valore inestimabile perché non riguarda soltanto la professionalità dei lavoratori ma anche la loro vita personale e familiare. Pensiamo a tutto il discorso relativo alla progettualità di vita. È innegabile che negli scorsi anni vi è stata una rimodulazione delle tutele concernente il contratto di lavoro che ha fatto sì che da un certo punto di vista una minore tutela avrebbe dovuto portare un maggior numero di contratti di lavoro. Questo se è riuscito o meno è oggetto di discussione. Io penso però che sia l'autonomia collettiva, siano ancora oggi i contratti collettivi nazionali ad avere un ruolo fondamentale soprattutto nel cercare di contemperare le legittime necessità dell'azienda ma le altrettanto legittime tutele che spettano alla persona che lavora. Quando però la contrattazione collettiva è genuina perché spesso si parla di contratti di lavoro pirati e su questo tema infatti di recente il CNEL si sta muovendo. Quando la contrattazione collettiva è genuina io penso che debba essere il secondo polmone insieme alla legislazione che deve far respirare il diritto del lavoro.